Il presidente della provincia di Trento ha visitato la colonia AERAT di Cesenatico che ha ospitato intere generazioni di bambini trentini. La colonia marina AERAT di Cesenatico ha ospitato con i suoi soggiorni estivi generazioni di bambini trentini e continua a farlo estate dopo estate. Accolto dal presidente dell'AERAT, Edo Grassi, e dai suoi collaboratori il governatore Fugatti ha visitato i complessi in cui si articola la colonia che quest'estate ha ospitato 1240 bambini e ragazzi divisi in quattro turni. La nuova colonia Trento ha sede a Cesenatico, ha stanze da 8 e 4-5 posti letto tutte dotate di servizi e docce in camera. Il villaggio che ospita le strutture è situato nella zona di Ponente confina con il campeggio e il parco di Cesenatico e dispone di spazi esterni, campi da beach tennis, beach volley, calcetto e basket. La riqualificazione del complesso, che si estende per circa 2 ettari e può ospitare oltre 450 persone, è stata curata dalla provincia autonoma di Trento ed è terminata nel 2015. La nuova concessione è partita nel giugno 2018 e durerà 15 anni. Il servizio è riservato per 3 dei 4 turni estivi a ragazzi di età compresa tra i 6 e 14 anni compiuti residenti nella provincia di Trento. Il quarto e ultimo turno è accessibile a ragazze e ragazzi fino ai 17 anni. I giovani ospiti vengono divisi in squadre omogenee per età. In numero limitato, dopo un'accurata analisi, AERAT accoglie in colonia anche ragazzi e ragazze con disabilità certificata. La colonia prevede servizio di ristorazione, assistenza, animazione e infermeria.